Ti piace Platone? Proprio fisicamente, un bell'uomo insomma. Ma la maestra? No, nemmeno io. Cioè, sono vecchio, ma non così vecchio. Non ho avuto mai il piacere di conoscere. Cioè, abbiamo qualche busto, qualche statua, insomma, ma... Sono riproduzioni molto posteriori, non sappiamo esattamente come fosse fatto. Però pare ecco che... Platone è un soprannome, in realtà, lui si chiamava Aristocle, mi pare. E Platone vuol dire dalle spalle larghe. Dalle spalle larghe o dai piedi lunghi, non sappiamo. Forse preferiamo pensare dalle spalle larghe, insomma. Dai piedi lunghi dovrebbe essere tipo... Pippo, insomma, un personaggio... Un clown, che non so, con i piedi lunghi. Pidone, ecco. Ma, insomma, meglio con le spalle larghe, ecco. In senso metaforico, poi, dai. Vediamo qualche termine. Sono termini che ho già usato, ma li vediamo velocemente, così. Il termine realismo gnoseologico è un termine che vi ho già definito a più riprese nel corso dell'anno. Penso, Diana, che sappiate a che cosa si riferisce, no? Vi ho detto che la mentalità realistica, o realismo in filosofia, è quella in base alla quale le tre sfere, di cui vi ho parlato all'inizio dell'anno, che sono quella ideale, mentale, psichica, per così dire, logica, quella del logos, La sfera del linguaggio, quindi dei termini con cui io vado ad esprimere, a livello verbale o per iscritto, il logos che ho nella mente, e la sfera della realtà in sé, cioè la sfera ontologica, coincidono. Quindi se una cosa la posso pensare, la posso dire, e dunque quella cosa è. O se una cosa è, la posso pensare e la posso dire. Questo non vale soltanto per Parmenide, per Eraglito, per gli altri presocratici, ma vale anche per Platone. Perché quando noi, diciamo noi moderni, utilizziamo il termine idealismo, siamo portati, è l'uso corrente che si fa di questo termine, siamo portati a credere che un idealista è un personaggio che vive nel mondo più o meno delle nuvole, che non ha poco, nulla a che vedere con la realtà in sé, per sé. Insomma, idealista è il contrario di idealista. Parlo dell'uso quello comune dei termini, no? Un idealista è uno che crede nell'amore con la A maiuscola. Un realista, invece, è un personaggio più o meno cinico, disincantato, che guarda i fatti per quello che sono, no? Mi passate questo uso consueto, normale del termine? Che non ha nulla a che vedere con la filosofia, peraltro. Perché Platone è l'inventore dell'idealismo e nello stesso tempo è il campione del realismo. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Allora, per due motivi. Uno, le idee per Platone, come vi ho già detto, non sono semplicemente delle entità psichiche, mentali. Non stanno semplicemente nella mia o nella sua mente. Le idee hanno concretezza ontologica, cioè esistono in sé e per sé. Sono collocate su un altro piano di realtà, ma ci sono. Quindi, ve l'ho spiegato un'altra volta, se io posso disegnare la lavagna a un triangolo, o posso immaginare il triangolo, è perché l'idea del triangolo esiste in sé e per sé. Quindi è assolutamente reale, anzi è molto più reale di quanto non sia reale il triangolo che disegna la lavagna. Perché l'idea del triangolo è eterna, sempre identica a sé stessa, tutte le caratteristiche dell'essere per me in idea. Il triangolo che disegna la lavagna ha una consistenza effimera, provvisoria, basta cancellare e scompare. Ma poi può riapparire ad elibitum nella misura in cui il modello rimane sempre identico a sé stesso. E la realtà tutta, su questo piano qui, quello della materia, la realtà tutta è causata da quel modello. Quindi il rapporto che c'è tra le idee e le cose reali, reali di questo piano della realtà, quindi le cose fatte di materia per capirci, è un rapporto di causa-effetto. Quindi il triangolo disegnato, la lavagna, si dà nella misura in cui è causato, è generato, è prodotto dall'idea di triangolo. Mi spiego? E quindi, capite, non c'è nulla di più reale dell'idea di triangolo. E questa forma di idealismo è assolutamente reale, dunque è una forma di realismo. Ecco perché si usa il termine qui realismo gnoseologico, realismo conoscitivo. Gnoseologico vuol dire conoscitivo. La gnoseologia è la scienza che studia il funzionamento della conoscenza. Ovvero la branca della filosofia che si pone la seguente domanda. Come funziona la conoscenza? Come facciamo noi uomini a conoscere la realtà costante, la nostra realtà interiore? E allora, vedete come definisce idea? Entità immutabile e perfetta. Che si trova in un'altra zona dell'essere denominata iperuranio. Iperuranio, quindi tradotto in italiano sovraceleste, sovracielo, iperuranos, è un luogo non immaginario, dal nostro punto di vista mitologico e immaginario, volendolo possiamo considerare in questa maniera qui. Ma insomma è il luogo, il locus in cui si trovano effettivamente queste idee, questo mondo delle idee. Capite quanto sono realisti i greci, quanto è realista Platone? Perché noi potremmo anche tranquillamente ammettere, e a noi non ci costa nulla ammettere, che le idee sì ci sono, ma stanno semplicemente nella nostra mente. E forse anche lì Socrate si era fermato a quel livello lì, non era andato oltre. Cioè il fatto che io e lei dobbiamo concordare sul modo in cui l'idea di giustizia o di amicizia prenda forma nella nostra mente, non implica necessariamente che poi debba esistere da qualche altra parte oggettivamente l'idea di giustizia. Mentre per Platone sì, l'idea di giustizia o di amicizia o le idee della matematica, della geometria eccetera eccetera, esistono in sé e per sé e si trovano in questo sovramondo. Entità più o meno discutibile perché poi, se avete capito quello che vi dicevo nella precedente puntata, a questa concezione del sovramondo, che è una concezione diciamo gnosiologica, scientifica, matematico-geometrica, puramente conoscitiva, si unisce quell'altra dottrina, quell'altra visione della reincarnazione delle anime, dell'immortalità dell'anima e questa sì effettivamente è dottrina mistica, soteriologica, quindi diciamo affronta altri scenari che vanno al di là del problema squisitamente legato alla conoscenza, cioè come funziona la conoscenza, perché qui non è in gioco soltanto la conoscenza del triangolo, qui è in gioco anche il destino della nostra anima, cioè di ciascuno di noi. Nella precedente lezione abbiamo visto come Platone dimostra che effettivamente conoscere altro non significhi se non ricordare, ricordare, perché nel Menone lui argomenta in questa maniera l'idea di virtù, stavamo definendo l'idea di virtù, l'idea di virtù noi ne abbiamo comunque un vago sentore, ma questo vago sentore può essere rafforzato, man mano che ne parliamo e questo parlarne insieme, che è la maieutica socratica, altro non vuol dire che attivare la memoria di quello che già sapevamo, e già lo sapevamo perché quell'idea lì l'avevamo contemplata noi, anime, prima di reincarnarci in questo corpo qui, d'accordo? Quindi in una vita precedente, quindi già quella roba lì la conoscevamo, cadendo in questo corpo dopo aver bevuto l'acqua leite, ce lo siamo dimenticati, ma attraverso il dialogo, attraverso le parole, attraverso l'esperienza delle cose sensibili, pian piano ci ricordiamo. E alla fine di quel passaggio che abbiamo letto, Socrates chiama lo schiavetto analfabeta e facendogli le giuste domande lo porta a dimostrare il teorema di Pitagora. A significare che cosa? A significare che lo schiavetto, il quale non aveva nessun tipo di istruzione, era totalmente analfabeta, si poteva ricordare, poteva arrivare a dimostrare un teorema così complesso, perché la sua anima, già quel teorema l'aveva conosciuto nel mondo delle idee, dove la sua anima, così come le anime di tutti noi, si erano date con vegno tra una rincarnazione e l'altra, mettiamola in questi termini qui. Quindi vedete come il discorso gnosologico si lega insieme a questa visione che riguarda il destino dell'umanità, soteriologica, soteriologico vuol dire che riguarda la salvezza, soter questo significa, in questo caso la salvezza dell'anima, il destino dell'anima, la virtù, la buona vita, la buona vita, perché la buona vita, così come era vero anche per Socrate, evidentemente si basa su che cosa? Si basa sulla conoscenza, bene è conoscere, male è ignorare, e il peggiore dei mali è ignorare di ignorare, cioè non sapere di non sapere, o avere la presunzione di sapere. E lo stesso vale anche per Platone, soltanto che Platone inventa, immagina, per così dire, fondendo insieme l'idea originaria del Socratismo con quella del Pitagorismo, immagina questo piano ulteriore di realtà, dove sono collocate le idee. E questo piano si chiama appunto iperuranio. L'idea platonica dunque è il modello unico e perfetto delle cose molteplici e imperfette di questo mondo. Ovvero, se ci sono tutti quegli alberi là fuori, e gli alberi sono fatti di che cosa? Perché chiamiamo quella cosa, quell'ente? Lì fuori lo chiamiamo albero. O attenzione, il termine ente in filosofia è il participo presente del verbo essere, significa ciò che è, una cosa che è, va bene? Dunque, l'albero è un ente, il banco è un ente, lei è un ente, ciascuna cosa che esiste è un ente. Ma perché quell'ente lo chiamiamo albero, quell'ente lo chiamiamo albero, e quell'ente lo chiamiamo essere umano, persona? Facciamo questa distinzione in base alla forma. Quello lo chiamiamo albero perché ha la forma, le caratteristiche, la forma è qualcosa che vediamo con gli occhi, non solo con gli occhi quelli fisici, ma anche con gli occhi della mente, per così dire. Diciamo che quello è un albero, se avesse la forma di un cespuglio lo chiameremmo cespuglio, se avesse la forma di una pietra lo chiameremmo pietra. Lo chiamiamo albero perché ha quella forma. Ripeto, forma poi significa l'insieme delle caratteristiche che fanno di un albero. Un albero, sì, dovremmo qui per capire bene, ascoltare le definizioni che ci dà un botanico in particolare. Sono la professoressa di scienze, ci darà una serie, ci potrebbe dare una serie di definizioni legate a quell'albero lì in particolare, o albero in generale. Quindi sarà fatto di un certo tipo di materia. Oggigiorno, da circa una settantina d'anni a questa parte, possiamo sostenere la seguente tesi, ovvero che la forma, e per forma intendiamo tutte le caratteristiche, organiche, fisiologiche, che fanno essere quella pianta, che è un essere vivente, quella cosa lì in particolare, dipendono dal cosiddetto DNA. Ovvero che nel DNA c'è scritta, ed è una metafora molto ricca, molto interessante, ci sono una serie di istruzioni, c'è scritta quella che è la forma che prenderà quel determinato oggetto, quella determinata sostanza vivente. Quindi è il DNA che fa essere un cavallo il cavallo, che fa essere il cane il cane, che fa essere l'essere umano essere umano. Ci sono una serie di informazioni, le informazioni possono essere decriptate, possono essere conosciute, ci sono una serie di forme, non so se mi spiego. Allora, l'albero è albero perché ha quella forma, cioè ha quell'insieme di caratteristiche, che possono essere definite e conosciute. E quell'insieme di caratteristiche le ha quell'albero lì in particolare, che oggi c'è, ma domani non c'è, perché lo posso abbattere e trasformare in linea da ardere, e poi in fumo e in polvere, e poi in terra, e poi dall'insemino, e rinasce un'altra volta un altro albero. Cioè, tutti gli alberi che esistono in questa realtà, in questo piano di realtà, che sono fatti di materia, sono assolutamente transeunti, provvisori, sono soggetti al divenire. Nascono, vivono, periscono, si trasformano in altro. Ma ciò che li fa essere alberi, c'è la forma di albero, quella roba lì, no, quella non perisce mai, è sempre identica a se stessa, dal punto di vista di Platone. Non muta mai. E non muta mai in forza dell'idea di albero. Mi spiego? È così, ed è un'osservazione che gli antichi fanno e che ci può tranquillamente stare. Il mondo funziona a casaccio oppure funziona in una maniera tale che io posso in qualche maniera studiarlo, identificarlo, conoscerlo. Era la polemica, era il succo della polemica che si era svolta, si stava svolgendo, tra Platone e i platonici, e i sofisti. Per i quali è tutto incerto, è tutto soggetto al divenire, è tutto in prospettiva, è tutto relativo. Manco per niente, risponde Platone, un albero è albero in forza di una forma ben precisa che studierà la botanica. Un quadrato è un quadrato in forza di una forma che studierà il geometra che si può definire. E questa roba qui non è a casaccio, non è come me gira me gira, non è relativa a Tizio piuttosto che a Caio. È così perché i modelli che posso studiare, posso mettere su un libro, posso interpretare, quelli sono sempre identici a se stessi. Quindi se la cosa fatta di materia cambia ad ogni piesso spinto, la forma rimane sempre identica a se stessa. Quindi quell'albero lì ha quella forma, provvisoriamente, che dà forma a quel cumulo di materia, organizza, oggi diremmo, le particelle, gli atomi, gli organizzano in una certa maniera. In ultima istanza, questa organizzazione dipende, per i tessuti organici, per le cose organiche, dall'organizzazione del DNA. E studiando il DNA e studiando quella forma possiamo descrivere le caratteristiche. Chiaro? Certo. Se non si dà questo, non si dà nemmeno scienza. Se tutto cambia continuamente, io come faccio a dire che quella cosa è vera e quell'altra cosa è falsa? Ci deve essere qualcosa di stabile. E allora, prospettiva dualistica, vedete cosa significa prospettiva dualistica perché, ripeto, ci sono due piani di realtà. Quello delle idee, quello delle cose incarnate che danno forma alla materia. L'altra volta vi stavo facendo l'esempio più o meno chiarificatore delle formine che utilizziamo giocando sulla spiaggia. Quindi prendiamo diverse formine, quella del polipetto, quella dell'orsacchiotto, quella del pescetto, le riempiamo di terra, di sabbia e poi facciamo asciugare un pochino la sabbia e poi lasciamo queste impronte sulla riva. Per cui passa un bambino e dice vedi, c'è la forma di un pescetto. Vedi, un pescetto di sabbia, evidentemente, ma c'è un pescetto. Quell'altro è un polipetto. Come fa il bambino a riconoscere che quello è un polipetto? Quello è sempre terra, alla fin fila. La riconosce in base al fatto che quel mucchio di terra ha una determinata forma. Aspetto qui puramente formale, nel senso che poi non c'è il DNA del pesce nella terra va da sé, ma insomma, questo è un altro esempio. Quando arriva l'onda e appiana tutti gli avvallamenti che stanno sulla spiaggia, il pescetto va a farsi benedire, il polipetto va a farsi benedire, non lo vediamo più, è diventata terra, è diventata sabbia. va bene? Vedete quindi i due piani quali sono quello della forma che rimane sempre identica a se stesso, è la forma di plastica che mi porto sempre oppresso e quello della materia, delle cose materiali. e allora la vera conoscenza, lo avete capito, è quella che si basa sull'anima, sulla mente, sulla ragione, sull'odos, perché la nostra anima, la fonte dell'odos, dell'intelligenza, quella che ci fa intuire, capire, comprendere le cose in base alla quale le cose le possiamo descrivere, appartiene anche dal punto di vista ontologico a quell'altro mondo lì. E' chiaro? Cioè, che cosa avviene? Vedete tutti là, Matteo è una persona stupenda, squisita e così via. Allora Matteo ha subito, subisce esattamente la stessa sorte di quell'albero là fuori, in senso metafisico, ovvero quell'albero, lo chiamiamo albero perché partecipa della forma di albero. C'era un mucchio di materia, che prima era terra, aria, acqua, luce, sole, fuoco, ecco per dirla con gli antichi, che provvisoriamente organizzato in quel modo lì è diventato albero, lo chiamiamo provvisoriamente albero, c'è l'idea di albero e la materia che compone l'albero. Lo stesso vale per lui, cioè quella forma lì, quella persona lì, la sua essenza è l'anima, quella che fa la differenza. E' il motivo per cui quella persona chiamiamo Matteo piuttosto che Valentina, piuttosto che... Bene? Quella è l'anima. L'anima provvisoriamente, l'arco della vita biologica, dà forma al corpo. Che cos'è il corpo? Che cos'è il nostro corpo? Terra, acqua, aria, fuoco. Ho detto in altri termini, il nostro corpo che cos'è? Le cellule che compongono il nostro corpo sono proteine, aminoacidi, che derivano da vegetali o da animali. Noi siamo, come abbiamo a dire, Feuerbach, filosofo dell'Ottocento, noi siamo letteralmente quello che mangiamo. Cioè il nostro corpo, le cellule del nostro corpo ogni due o tre giorni sono tutte nuove. E quindi quella bistecca che ci siamo mangiati l'altro giorno, eh? Oppure quella farina di insetti, oggi va di moda quello, no? Diventerà o è diventata una parte del nostro stomaco, il lobo dell'orecchio. No? Capite? Funziona esattamente così. Quindi quella persona lì è persona nella misura in cui noi ne descriviamo l'essenza che è l'anima e l'anima si incarna provvisoriamente in quel grumo di materia, chiamiamolo così. E in fin dei conti, no? Un ovulo, uno spermatozoo, una serie di cellule che poi si sviluppano più o meno velocemente, un feto, un neonato, siamo questa roba qui. Poi torniamo ad essere polvere. Nell'arco della vita abbiamo quella forma lì perché ce la dà l'anima. L'anima, che è il principio vitale, appartiene a quello stesso mondo delle idee. Quindi l'anima sta al corpo come la forma del polipetto sta al polipetto fatto di terra o come la forma dell'albero sta all'albero lì fuori o come la forma di triangolo che ho nella mente e che corrisponde al triangolo in sé per sé sta al triangolo che lei potrebbe disegnare nella lavagna. Mi spiego? È la stessa cosa in un certo senso. Quindi l'anima appartiene a quel mondo lì ed è appunto grazie all'anima che noi conosciamo le forme pure. e quella è la conoscenza in sé per sé. Caterina, c'è un'altra forma di conoscenza che fa sempre riferimento direttamente o indirettamente alle idee. Allora, o io studio direttamente l'idea e questo è qualcosa che arriva al filosofo o allo scienziato puro oppure posso provare a studiare la forma attraverso le copie cioè attraverso i sensi. Mi spiego? O indago la forma dell'albero in sé per sé oppure mi metto a studiare i singoli alberi fatti di materia ne vedo prima uno ne vedo poi un altro poi un altro ancora o come fanno gli scienziati in laboratorio cioè studio l'aspetto fenomenico di quella determinata cosa ma ho sempre a che fare con cose incarnate fatte di materia e con queste cose mi ci confronto attraverso i cinque sensi quindi non uso l'occhio della mente per così dire l'idea pura uso gli occhi sensibili che possono essere io o meno mio le orecchie sensibili i cinque sensi l'olfatto il gusto il tatto eccetera eccetera quando mi muovo nel regno degli oggetti sensibili ai quali mi rapporto attraverso i sensi mi muovo in quello che Platone definisce doxa opinione che è un termine che già conoscete che cos'è opinione doxa viene dal verbo docheo che vuol dire sembrare parere giudicare se uso la forma passiva come video in latino mi pare che mi appare una determinata cosa mi appare in quella maniera questo è il significato di doxa mi appare che vuol dire che mi si manifesta i termini sensibili in quella determinata maniera quindi che so un cane mi si manifesta con quella forma la forma specifica del cane ha un determinato odore più o meno forte l'ho detto anche attraverso l'olfatto se lo vado ad accarezzare al tatto mi dà una determinata sensazione eccetera eccetera poi ha una sua emotività quindi mi ci rapporto anche in termini emotivi insomma io do una definizione di cane in base a come mi appare quell'entità lì corporea fisica provvisoria diveniente e condannata a morte in ultima istanza che chiamo cane quel cane lì in particolare va bene? questo è il piano dell'opinione che è mutevole e imperfetta perché rispecchia le cose in sé per sé che sono per via la loro componente materiale mutevoli e imperfette la scienza episteme invece è quella che guarda e qui stiamo passando dalla sfera della conoscenza quindi dalla sfera sensibile alla sfera intellegibile cioè quello che vediamo con il terzo occhio della mente quello che vediamo con la mente la teoria pura il ragionamento geometrico-matematico non è l'esempio più più eclatante lì non stiamo più valutando le singole cose materiali che hanno quell'aspetto che hanno la forma ma stiamo valutando l'idea in sé per sé quindi sul piano dell'opinione torniamo all'esempio di prima così capiamo sul piano dell'opinione è come se noi volessimo studiare e dare una definizione di polipo andando a studiare ad osservare prendendo appunti annotando facendo disegni i singoli polipetti che lei di buon mattino ha messo lì sul bagnasciuga e cerco di capire qual è la forma quali sono le caratteristiche del polipo però lo studio attraverso la forma incarnata provvisoriamente in quel grumo di materia diverso invece è chi guarda direttamente chiudendo gli occhi sensibili in senso metaforico con l'occhio della mente guarda direttamente l'idea di polipo la contempla direttamente ne ha nozione assolutamente certa e come fa a contemplarla ricordando l'idea pura che aveva visto a suo tempo quando la sua anima era fuori dal corpo eccetera eccetera va bene facciamo un altro esempio così capisci meglio dimmi dimmi quale sarebbe l'idea del polipo allora adesso l'idea del polipo effettivamente è una sciocchezza che ho detto non avrei siccome c'avevo questa formina è un ricordo di infanzia ecco riguarda più Freud che Platone ecco è un problema mio personale quindi non ti posso rischiere l'idea del polipo immagino che sia un mollusco tentacolare adesso non saprei darne una definizione esatta non è questo il punto era un esempio banale facciamo un esempio che invece c'è familiare torniamo agli oggetti della geometria e della matematica allora è come se l'opinione è come se volessi studiare i teoremi legati al triangolo e tutto ciò che la figura triangolare implica andando ad osservare le singole cose triangolari che a volte è anche utile buono e giusto per carità mentre la scienza propriamente detta la teoresi pura è quella che mettiamo in atto quando studiamo alla lavagna e concepiamo nella nostra mente il teorema di Pitagora i teoremi di Euclide eccetera eccetera quella è scienza pura perché ci confrontiamo direttamente con l'idea di triangolo invece lo studio dei singoli oggetti triangolari rientra nella sfera dell'opinione dell'opinabile della doxa non è che una cosa esclude l'altra ma insomma è come se per dire invece di confrontarci con la cosa in sé ci confrontassimo con la sua derivazione facciamo un esempio la scena del crimine forse lì è familiare arriva il detective e la scena del crimine la esamina in maniera appunto scientifica quindi isola non so eventuali frammenti di pelle il bossolo di un proiettile se l'assassino è stato così stupido lasciare il bossolo o la pistola no e va vede che ne so vede immagina chiama un coroner e fa visitare il cadavere che ti dirà che il trapasso è avvenuto tra le ore undici e mezzanotte eccetera eccetera raccoglie una serie di dati quella è una conoscenza poi può anche arrivare a una certezza quasi definitiva in tribunale si raccolgono una serie di indizi alcuni indizi diventano prove le prove poi portano il giudice o la giuria a decidere per la colpevolezza o per l'innocenza di Vinco Pallino che è stato chiamato a rispondere di quel determinato crimine mi seguite? ecco quello è il piano ancora ancora della doxa il piano dell'idea è invece stare lì e assistere al delitto in presa di detta e io lì ho una certezza assoluta perché vedo la cosa nel suo svolgersi vedo la cosa in sé per sé allora siccome le cose che stanno qua fuori sono le brutte copie dell'idea pura di albero di triangolo di polipo eccetera eccetera andare direttamente alla fonte dell'idea mi dà garanzia di scienza certa arrivarci attraverso le singole cose materiali che sono appunto le doxa le opinioni che mi faccio della cosa cioè le copie dell'idea della forma pura mi implica un percorso più tortuoso di penombra per così dire non così immediato fermo restando che alla fine arrivo alla medesima conclusione perché se quella roba lì la chiamo pianta la chiamo pianta in forza dell'idea brutta copia tra virgolette brutta è anche bella copia è anche bellissima allora tutte le cose che esistono sono copie dell'idea l'idea è una sola esiste un'idea di albero un'idea di triangolo un'idea l'idea di triangolo l'idea di quadrato l'idea di giustizia ci sono anche idee valoriali l'idea di bene l'idea di amicizia l'idea di fiore cioè tutte le cose che esistono a vari livelli a livello di numeri di entità geometrico-matematiche a livello di valori bellezza bene l'idea suprema è quella del bene per dire eccetera eccetera poi esistono le idee come oggetti geometrico-matematici quelle sono le idee in sé per sé quindi l'idea come nel mondo dei pitagolici esiste ricordate il pari e il dispari l'idea di pari l'idea di dispari l'idea di uno il numero uno è uno il numero due è uno solo nel senso è il numero due il numero tre è uno solo è il numero tre per dire in termini pitagolici è la somma di tre unità in ultima istanza il mattone fondamentale dell'universo è l'uno ma insomma adesso non vi voglio complicare troppo le cose chiaro? quindi tutti i numeri che esistono tutte le cifre che tu vedrai scorrere sulla calcolatrice piuttosto che sul telefono cellulare o che nella tua mente sono delle copie dell'unico numero uno o dell'unico numero due o dell'unico triangolo il triangolo che tutti quanti abbiamo in mente perché tutti quanti partecipiamo della medesima idea d'accordo? allora poi possiamo arrivare all'idea attraverso le cose incarnate materiali e questo è il cammino della doxa per così dire oppure ci possiamo arrivare attraverso la scienza probabilmente detta cioè attraverso l'anima attraverso la ragione attraverso la contemplazione pura e quella è l'episteme infatti la scienza ha a che vedere direttamente con le idee allora il punto fondamentale Federico è che rapporto c'è perché è una domanda assolutamente legittima tra l'idea di albero e l'albero che sta lì fuori o tra l'idea di triangolo e il triangolo in sé per sé questo è un tema che Platone affronta direttamente e indirettamente in vari dialoghi e poi è una questione che tutto sommato rimane aperta ma fornisce varie chiavi di lettura attenzione capisco che giustamente voi avete bisogno d'altra parte degli schemi e qui sul libro ci sono anche gli schemi tanto per semplificarvi la vita però considerate che non è che Platone i dialoghi di Platone sono dei trattati dei manuali scritti una volta per tutti super blindati per cui la materia è esposta così le cose stanno così e tanti saluti la filosofia è in fieri esattamente come la scienza cioè se io apro un libro di fisica oggi aprite il vostro manuale di fisica quello che trovate sul libro di fisica se lo andate poi alla storia all'università direte ma questo ma questo è assolutamente superato anzi alcune di queste teorie sono assolutamente sbagliate o al limite hanno un valore ai termini di storia della scienza ma la scienza si è molto evoluta e quello che vale oggi fra dieci anni sarà assolutamente superato ci saranno nuove visioni scientifiche nuove visioni del mondo in tutti i campi quello della fisica è quello più duraturo ci sono altri campi come quello della genetica o quello delle neuroscienze dove i cambiamenti sono su base annuale biennale massimo quinquennale o decennale cioè tu entri all'università e dopo cinque anni quando ti laurei quello che è stato il primo anno è utile per carità ma già non è più così vero perché nel frattempo ci sono altre dottrine altre teorie la scienza si fonda continuamente questo oggi lo stesso vale anche per la scienza di Platone o per la filosofia in generale per la ricerca cioè se i dialoghi di Platone sono testimonianze di sempre esoteriche sono testimonianze dei dibattiti che si svolgevano all'interno dell'accademia se vale oggi per le accademie di oggi il fatto che le teorie si evolvono si modificano alcuni punti che fino a ieri davamo per scontati vengono continuamente rimessi in discussione da una nuova generazione di studiosi ecco questo è il motivo per cui nel libro trovate che Platone avrebbe detto prima A poi B poi C avrebbe avanzato questa ipotesi poi questa A perché oggettivamente evidentemente Platone è un nome e sicuramente un personaggio storico va da sì ma dietro Platone vi ho già detto intorno a Platone c'è un ampio gruppo non così ampio ma insomma un ampio gruppo di discepoli di scolari di studiosi uno di questi studiosi che frequenterà l'accademia di Platone è il grande Aristotele uno scolaro particolarmente acuto che a un certo punto in polemica non con Platone ma con il successore di Platone Aristotele è di una generazione più giovane romperà con l'accademia e fonderà la sua scuola personale il liceo perché lui aveva un'idea delle idee della teoria delle idee si era fatta una visione sua che non era coerente con o andava oltre il discorso fatto sin qui da Platone d'accordo? questo capite? ecco perché trovate sul libro che Platone parla parla ora di Mimesis ora di Metessi ora di Parusia termini diversi rimane aperto il problema di come diavolo le cose materiali discendono dalle idee cioè come si rapporta l'idea di triangolo con il triangolo che lei ha in mente come si rapporta l'idea di albero con quell'albero che sta lì fuori torniamo al discorso di prima allora è facile pensare in una metafora che ci sta il bambino che va lì con le formine e va bene questo è molto carino che tra l'altro non è una cosa che mi sono inventato io perché nell'ultima opera di Platone una delle ultime opere della vecchiaia di Platone il Timeo lui immagina esattamente una specie di è un mito evidentemente è un racconto che si può è una teoria che si può esprimere in termini narrativi mitici per l'appunto immagina questa divinità questo demiurgo demiurgo in greco di artigiano una sorta di artigiano divino il quale ha la testa nel mondo delle idee è un personaggio enorme è un gigante e le mani impasta in questo mondo qui e quindi che fa questo divin artigiano modella le cose che stanno su questo mondo guardando ispirandosi ai modelli ideali che vede il mondo delle idee quindi ci può stare allora velocemente immagina queste tre modalità metessi metessi vuol dire partecipazione in qualche maniera più o meno misteriosa la pianta che sta lì fuori è pianta in quanto partecipa dell'idea di pianta noi oggi diremmo al dna di una pianta di un albero di quell'albero lì in particolare mimesis mimesis vuol dire imitazione le cose materiali imiterebbero le idee ma anche questa è un'affermazione che lascia un pochino il tempo che trova sì vabbè che vuol dire che le imitano parousia parousia che forse è la dottrina quella più avanzata parousia vuol dire essere presente in è come se l'essenza del triangolo l'essenza di albero fosse in qualche maniera presente in quel grumo di materia che chiamiamo albero che un pochino assomiglia alla teoria dell'incarnazione dell'anima lui lo chiamiamo Matteo perché l'anima di Matteo è presente in quel corpo lì almeno per un certo periodo di tempo poi se ne esce fuori svolazzando e c'è tutto poi ne parleremo è un percorso interessante